sapete cosa succede che siete diventati tutti i registi e sceneggiatori lo dico in base alle lettere che io ricevo da parte vostra avete tutti intenzioni di girare immediatamente un film un cortometraggio siete lì lì per partire con la produzione con la realizzazione di un'opera filmica questo sicuramente perché disponete di una telecamera di una macchina fotografica che fa anche il video oppure di un cellulare che veramente vi dà la possibilità di girare immediatamente qualcosa anche con un software gratuito anche di montare però però io non voglio assolutamente frenare questa vostra premura questo vostro bisogno di girare immediatamente va benissimo va benissimo anzi girando si impara a girare no potrei dire però come vi ho detto la volta scorsa non è esattamente così perché questa è la mia raccomandazione prima di girare prima di mettere in piedi la realizzazione di un cortometraggio dovete scrivere dovete scrivere tutto dietro un cortometraggio ci deve essere un progetto se c'è un progetto se c'è una scrittura se c'è un racconto che funziona dall'inizio alla fine allora potete mettere in piedi una produzione la realizzazione di un cortometraggio molti di voi partono direttamente con la camera e questo non va bene perché poi è chiaro che mettete insieme un prodotto ma poi chi guarda quel prodotto capisce quello che voi volevate dire non sempre così credetemi non sempre così quindi prima di girare scrivete scrivete il soggetto descrivete i vostri personaggi controllate se veramente finisce bene inizia bene si sviluppa bene passate alla sceneggiatura quindi suddividete il tutto in scene e alla fine finalmente potete mettere in piedi il vostro film e girarlo sono sicuro vi assicuro che verrà molto ma molto ma molto meglio di quei video che voi improvvisate direttamente con la camera e che poi montate e cercando di dare con il montaggio un significato a quello che voi avete fatto il significato ci deve essere prima deve essere scritto quindi prima scrivete e dopo girate grazie